Un ripieno di pancetta prova le zucchine per un secondo che è davvero una bomba! Bombette di pollo, le puoi cuocere in padella, in forno o in frigitrice ad aria. Prepariamole insieme e segui molto food! Per prima cosa grattugia le zucchine con una grattugia dei fori larghi, tamponale per eliminare l'acqua in eccesso e disponile all'interno di una ciotolina. Adagia una fetta di pollo sul piano di lavoro e disponi al di sopra la pancetta, le zucchine, la provola e infine arrotola in questo modo la bombetta di pollo. Utilizza la pancetta e il pollo per racchiudere per bene tutti gli ingredienti all'interno ed evitare così che fuoriescano durante la cottura. Spennella le bombette con olio extravergine d'oliva e panale con del pan grattato condito con un po' di sale. Infine infilza tre bombette con due stecchini di legno, in questo modo. Metti le bombette in una padella con un bel giro d'olio finché non si forma da tutti i lati una bella crosticina croccante. A questo punto copri con coperchio e prosegui la cottura per una decina di minuti. Otterrai delle bombette croccanti fuori e morbide e filanti all'interno. Una volta pronte servi le bombette di pollo appena fatte.